Giovedì 10 marzo 2016 in piazza Gaia Olenti a Milano si terrà il primo Urban Laser Show d'Italia che sarà gratuito e aperto a tutti. L'evento organizzato da Samsung per il lancio del nuovo smartphone Galaxy S7 inizierà alle ore 22 e vedrà come protagonista una grande installazione multimediale fatta di luce, laser, immagini e suoni. Il pubblico si sentirà parte di un'altra realtà, di una galassia ricca di forme e intrecci che renderanno i grattacieli più alti di Porta Nuova e di tutta Milano compreso il Samsung District, uno spettacolo unico nel suo genere. Si tratta di uno show a 360 gradi che parte dal palco centrale composto da un cubo video proiettato il quale sarà collegato a quattro torri regalando così una visione dello skyline del tutto inedita. La colonna sonora dello spettacolo si erge sulle note di Wave Forms composta esclusivamente per l'occasione da Andro, il tassierista dei Negramaro con la collaborazione di Sergio Carnevale, Mauro Pagani e Lele Sacchi. A chiudere l'evento il DJ set del beatmaker britannico Fatboy Slim.